il creazionismo cari amici il creazionismo cioè l'universo è stato creato da dio se ne parla ancora anche oggi e anche se siamo nel 2024 sentite che bello questo video che sta sul canale angeli celesti dal fango agli esseri viventi come siamo stati creati eccolo sentite che bello è tanto chiamato universo uno spazio vasto e misterioso era così oscuro da sembrare un grande velo di velluto nero e così silenzioso che si poteva udire il proprio pensiero in quell'infinito nulla esisteva un immenso mare un oceano di oscurità senza fine ma in un momento speciale accadde qualcosa di straordinario dio decise di creare un mondo meraviglioso con un comando potente e pieno di entusiasmo dio disse che ci sia luce qua mi fermo cari amici potete continuare voi dopo e perché io questo video ve lo metto nel riassunto c'è da chiedere a costoro va bene ma da dove salta fuori dio da dove salta fuori si è fatto da solo si è fatto beh non è possibile o esiste da sempre e questo è il problema e da dove salta fuori dio va beh cari amici fate voi le vostre personali riflessioni perché io qua oggi ho fatto le mie a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori ovvero di serafì non è soli